Sono 47 i nuovi casi di positività al covid-19 su oltre 6.200 test effettuati. Per il quarto giorno consecutivo tuttavia non si registrano decessi in Puglia e continuano a diminuire seppur di poco gli attualmente positivi grazie a 72 negativizzati. Sono infatti poco più di 2.600 i contagi attivi al momento in Puglia. Continua la curva discendente in regione dunque con un meno 37% di casi rispetto ai sette giorni precedenti ed un'incidenza ogni 100.000 abitanti che si attesta a 6,8 al di sotto nella media nazionale. Foggia ora la provincia pugliese con la più bassa incidenza di casi al di sotto di 4 mentre in leggera risalita c'è la BAT con 4,2 casi ogni 100.000 abitanti prima di Bari a 4,4. In discesa anche Taranto e Brindisi che si attestano rispettivamente per incidenza a 9,1 e 11,5 casi mentre in risalita c'è la provincia di Lecce dove il dato si attesta 10,7 ma è con il segno più ormai da qualche giorno. Sul fronte ai ricoveri sono solo 10 i posti di terapia intensiva in tutta la regione occupati da pazienti covid-19, un dato ancora in discesa che porta al 2% l'occupazione totale di posti letto delle terapie intensive pugliesi. In area medica sono 113 invece i pazienti ricoverati pari al 3,8% della capienza totale. Sul fronte ai vaccini sono quasi 3.700.000 le dosi di vaccino anti covid somministrate sino ad oggi in Puglia, pari al 91,6% di quelle consegnate dalla cabina di regia per l'emergenza e che si attestano a poco più di 4 milioni di dosi. Il 61% dei cittadini pugliesi, pari a quasi 2.400.000 persone, ha ricevuto almeno una dose di vaccino mentre il 36% ha già completato il ciclo vaccinale. analizzando i dati, si evince come in Puglia sia stato raggiunto almeno da una dose il 100% degli ultranovantenni mentre ci si attesta al 90,1% di vaccinazioni complete per la fascia degli ultrottantenni. Nella fascia d'età tra 30 e 39 anni invece ci si attesta esattamente al 50% dei cittadini che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino.